Un disegno di legge che va incontro alla risoluzione di problemi che da tempo attendevano risposte e che prevede somme aggiuntive nei settori più diversi, tenendo nel giusto conto la limitatezza delle risorse a disposizione. Così il consigliere del PD, Miranda Castelgrande, commenta l'approvazione da parte del Consiglio regionale del disegno di legge di variazione del bilancio. A parere dell'esponente del PD, il governo regionale è riuscito a rispondere alle esigenze di efficienza, riducendo costi ed assumendosi la responsabilità di scelte talvolta anche difficili, a partire dalla stabilizzazione di personale precario, sino alla sanità e alla governance degli enti locali. Per quanto attiene il Consorzio Industriale di Potenza, con il contributo a una tantum di un milione e mezzo di euro per garantire la prosecuzione dei servizi per le aziende insediate, Castelgrande parla di un'ulteriore prova di responsabilità della maggioranza nell'affrontare e risolvere le questioni.